Sulla cappella di destra abbiamo questo elemento centrale della bifora che ha avuto un evidente, come si può chiamare, espanciamento. Naturalmente tutto questo è tenuto sotto osservazione. Noi stiamo facendo tutti i controlli, non solo al punto in cui si è verificato questo cedimento, ma anche a tutto il resto e all'esterno. Perché questi controlli avvengono sempre, avvengono in tutte le chiese monumentali, ma naturalmente quella di Piero ha la massima attenzione da parte nostra. Attimi di apprezzione per la Basilica di San Francesco, nella cuore del centro storico di Arezzo, a far preoccupare il cedimento della colonna di una bifora che si trova nella cappella Guasconi, quella alla destra dell'altare. Probabilmente l'ipotesi è che sia il vento che ha premuto sulla finestra e quindi aumentando il carico di tutto quanto. La Basilica di San Francesco custodisce uno dei capolavori di Piero della Francesca, il ciclo della leggenda della vera croce, che fortunatamente non è stato interessato dal cedimento e non ha riportato alcuna conseguenza. La cappella Guasconi ospita invece un altro affresco, quello di Spinello Aretino. Tutto il complesso della chiesa è un complesso importantissimo, questi non hanno subito danno in questo momento, questa è una cosa importante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, che hanno messo in sicurezza la colonna grazie ad una struttura autoportante in legno, sulla quale poggia la parte che sta cedendo. Adesso però sarà necessario un restauro. Bisogna verificare quanto va esteso rispetto al punto in cui è successo il danno. Le visite alla Basilica e gli affreschi comunque proseguono. Il percorso di visita naturalmente si conclude all'interno della cappella Bacci, quindi si accede dalla porta della cappella Tarlati di Pietramalasto, dopodiché si esce dalla porta e si può completare il giro qui, prendendo visione ovviamente da fuori, poiché abbiamo posto le barriere di delimitazione della cappella Guasconi.